Raccolta differenziata di Sernia. Dopo un periodo di prova generale ci siamo per rendere il servizio efficiente e controllato. Questa mattina presso il terminal bus di Sernia si è svolta la conferenza stampa dove sono state presentate le isole ecologiche per la raccolta differenziata che riguardano le attività commerciali, posizionate in sei distinte aree. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato i responsabili della Smaltimenti Sud e l'assessore all'ambiente Marco Amendola che ai nostri microfoni dissiba dubbi e perplessità sulle diverse criticità avute negli ultimi tempi per il nuovo servizio di raccolta differenziata e rende edotti i cittadini per le ultime novità. L'installazione delle cinque mini isole ecologiche è un elemento ulteriore che va a completare quella che è l'organizzazione della gestione del corretto conferimento dei rifiuti ed è rivolta esclusivamente alle attività commerciali, ad alcune attività commerciali che in questi mesi di partenza della raccolta differenziata hanno riscontrato delle difficoltà anche logistiche per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Quindi contemporaneamente da domani scompariranno i due punti che avevamo installato come area di sfogo nei primi mesi di inizio della gestione integrata dei rifiuti differenziati perché non avranno più motivo di esistere. Dalla prossima settimana si avvierà la raccolta differenziata nelle borgate e questo garantirà entro la fine di aprile, inizi di maggio, di avere un completo ciclo dei rifiuti per quanto riguarda quella che è la modalità di prossimità e quella che è la modalità del porta a porta. Dalla prossima settimana sarà disponibile presso il quinto settore, l'ufficio ambiente del comune, la distribuzione delle taniche per quanto riguarda la raccolta degli oli vegetali e soprattutto è bene ricordare che il punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti per il cittadino, per l'attività commerciale che avrà difficoltà rimane quello dell'isola ecologica che si trova in zona Tremolicci dove è possibile conferire tutti i giorni, sia la mattina che il pomeriggio, fino al sabato mattina, quindi escludendo il sabato pomeriggio e la domenica. Credo che questa sia una struttura importante soprattutto di supporto a quelle persone che ancora oggi sono in difficoltà, a quei cittadini e a quelle utenze che ancora oggi sono in difficoltà per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Grazie